Con voto unanime la terza commissione del Consiglio regionale Veneto, presieduta da Sergio Berlato, ha dato parere favorevole alla deliberazione della giunta regionale che prevede un piano straordinario di interventi finanziari regionali per il sostegno delle piccole e medie imprese italiane colpite dagli eventi atmosferici dello scorso 8 luglio nei territori di comuni di Dolo, Mira e Pianiga. Il provvedimento prevede, come in occasione dell'alluvione del 2010 e del sisma del 2012, un piano per il sostegno finanziario straordinario delle imprese danneggiate attraverso specifiche misure di finanziamento agevolato. Il piano sarà immediatamente attuabile mediante l'utilizzo dei fondi di rotazione regionali in gestione presso Veneto Sviluppo Spa e in collaborazione con il sistema bancario e i confidi. I finanziamenti saranno concessi a tasso zero per l'intero importo e avranno una durata di 5 anni, mentre l'importo del finanziamento agevolato sarà compreso tra 5.000 e 300.000 euro per singolo beneficiario e sarà commisurato al valore dei danni subiti e ai costi di ripristino.